Signor Renato, dopo tanti anni di supplenza arriva il posto fisso. Sì, effettivamente, ci è voluto un po' di tempo, insomma, finalmente sono di ruolo, come si dice. Di ruolo. Una vita da precario, parafrasando la canzone di Ligabue, è questa la storia del professor Renato Chano, 66 anni. Diventato docente di ruolo in una scuola media di Vaiano, in provincia di Prato, grazie proprio all'emissione in ruolo, previsto dalla normativa per l'assunzione dei precari nel mondo della scuola, dove Renato ha il triste primato di essere il decano del precariato. Di durare un altro po', in modo da raggiungere, insomma, quel tanto che mi serve per andare in pensione. Perché quanto manca? Dove mancare poco, perché l'età giusta sarebbe 67. Chiederò di poter rimanere qualche anno in più per poter completare. In tutto questo ora arriva addirittura un anno di prova. Sì, sì, i dulci si infundono, come si direbbe, perché effettivamente se c'è un anno di prova da fare, si farà. Insomma, poi c'è una commissione che giudicherà il lavoro, ecco, e dopo si è assunti regolarmente. Quindi bisogna aspettare il 2020 per essere? Bisogna aspettare, sì, il 2020 penso perlomeno. È una situazione, direi, io credo tipicamente italiana, sentivo di colleghi all'estero che non hanno questi problemi. Ecco, forse anche il ruolo dell'insegnante, ovviamente, dovrebbe avere un peso diverso, ecco, non soltanto economicamente, ma insomma, come status anche. In ogni caso il signor Renato fa anche mia colpa per essersi dedicato in alcuni anni ad altri mestieri. Sì, che io non sono proprio allegro del tutto, ecco, potevo forse gestirlo meglio, ma è nel destino delle cose, ecco, spesso, non tutte le scelte le facciamo coscientemente. Intanto da insegnante di ruolo, il suo pensiero è agli ex colleghi precari. Anche ora penso a vari colleghi che da ora al 16 settembre, forse un po' dopo, dovranno mettersi in fila, aspettare, chiedere, lo vedo, è un po' un'anomalia, ecco, diciamo, ora io, tutti quanti dicono, sono il decano, non pensavo, comunque certo, certo, sono un po' grandino effettivamente. Va bene, quindi buon anno scolastico. Sì, sì, grazie, anche a voi, preparatevi, 16 si entra a scuola, eh.